A Terramo una maxirissa tra detenuti magribini e romeni è scoppiata nel terzo reparto del carcere di Castrogno. Gli autori delle violenze, circa una decina, si sono presi a colpi di sgabelli, piedi di tavoli e lamettati, in particolare all'altezza del collo e della testa. Di questi due detenuti sono stati maggiormente feriti, ma per fortuna non è stato necessario il trasporto in ospedale. A denunciare il fatto è il sindacato del Sinappe. I disordini si sono protratti per diverse ore anche con l'incendio di due camere di pernottamento, con l'intento dei detenuti di far aprire le porte per continuare la colluttazione. La situazione è degenerata dopo giorni di tensione, alimentata dall'arrivo di parecchi detenuti allontanati dagli istituti laziali per motivi di ordine e sicurezza e tutti concentrati a Terramo, rendendo il carcere da parte del sindacato un ricettacolo di delinquenti facinorosi senza minima osservanza di qualsiasi regola di convivenza, oltre che penitenziaria, con la vocazione alla violenza, alla prevaricazione e alle attività illecite. Per il sindacato ancora una volta sono state messe a dura prova quelle poche unità che quotidianamente cercano di garantire l'ordine e la sicurezza dei reparti detentivi sovraffollati. Solo due unità di personale in una sezione con 100 detenuti anche di questo calibro. Per i sindacati questa condizione oramai appartiene alla quotidianità di Castrogno. I poliziotti montano in servizio affidandosi alla Divina Provvidenza con la speranza di smontare l'orario prestabilito senza essere trattenuti al lavoro e soprattutto rimanere in columi.